Si annuncia una settimana di fuoco per la Pistoese. L'undì prossimo ci sarà l'apertura ufficiale del calciomercato. In otto giorni il responsabile dell'area tecnica Federico Bargagna e l'allenatore Morgia vogliono mettere assieme un sostanzioso gruppo di giocatori per la prossima stagione. Il mercato è difficilissimo, soldi in giro ce ne sono pochi e quei pochi debbano essere spesi con il bilancino. Trattative sono indirizzate un po' ovunque. Si fa la corte ad un giocatore del Santià di grosso spesore, l'interno destro Minin Chieri. Una risposta è attesa di ora in ora. E' stato sondato il terreno per il difensore dell'Entella Chiavari del Nero. Il portiere Medioli ha accettato le offerte faraoniche della propria cenza. Buglio, Gambadori e Bigoni sono vicini all'accordo. Marino Taddeucci vorrebbe tornare in arancione. La trattativa prosegue con il procuratore del giocatore Ronchetti. Entro il primo luglio è attesa una risposta da Toledo e Floriano. Paoli chi verrà sistemato in una squadra toscana di Serie D. Con l'attaccante Gucci è stato riaperto uno spiraglio per tenerlo ancora in arancione. E' attesa a breve la risposta da Fiorentina e Siena per il rinnovo del prestito di Belli e Giordani, ma anche sulla possibilità di avere due portieri quote. Le cose proseguono a gonfie vele per quanto concerne l'allestimento delle cinque squadre del settore giovanile, grazie soprattutto alle moltissime società del comprensorio che hanno assicurato un'assidua collaborazione.